Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, con metà nel cappotto, che con i denti funga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia, manostrilla, sorseggia, camomilla e mezza tormentato se ne va. Guardo sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non è parti alla gente. Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda ancora è questa qua. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, con metà nel cappotto, che con i denti funga, che molto spesso pianga. Si dice mangi troppo, con metà nel cappotto, che con metà nel cappotto, che con metà nel cappotto, che con metà nel cappotto. Vola qua, vola là, poi si arresta sopra un fiore, poi si arresta sopra un fiore. Farfallina bella bianco, che con metà nel cappotto, che con metà nel cappotto, che con metà nel cappotto, che con metà nel cappotto. Farfallina bella bianco, che con metà nel cappotto, 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 che con metà nel e si stanca, vola qua, vola là, poi si arresta...